La giustizia tributaria in Toscana funziona, o almeno ci prova, viste le carenze di personale. I dati sono stati diffusi in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nel 2016 sono stati 5.400 i ricorsi presentati dai cittadini alle commissioni provinciali di primo grado, in merito al pagamento di tasse e tributi vari. I più frequenti riguardano le imposte sugli immobili e i consorsi di bonifica. I ricorsi arrivati a definizione sono stati 7.300, quasi 2.000 di più. I ricorsi ancora pendenti alla fine del 2016 sono quindi diminuiti rispetto all'anno prima. La commissione provinciale di Firenze in un anno ha ridotto di un terzo le proprie pendenze. Devo dire che i funzionari degli uffici tributari ed i professionisti che assistono i contribuenti dimostrano su tutto il territorio della regione un grande livello di consapevolezza, di professionalità, di rispetto per i diritti del cittadino. Resta il problema delle carenze di organico. Nella commissione regionale, su 84 magistrati previsti dall'organico, ne sono in servizio solo 55, di cui due assenti per incarico politico. La commissione provinciale che ha definito il maggior numero di ricorsi è quella di Firenze, seguita da quelle di Lucca, Pisa e Pistoia. Un altro problema sono i tempi lunghi della definizione dei ricorsi, con qualche novità all'orizzonte. Stiamo lavorando da una parte per una riforma della giustizia tributaria, soprattutto nel ricorso in Cassazione, con un ampliamento di organico, una sezione tributaria bis in Cassazione e anche su tutto quel rapporto che riguarda la conciliazione. Allo stato attuale, davanti alle commissioni provinciali toscane, sono pendenti 16.400 ricorsi, di fronte a quella regionale 5.300.